omicidio suicidio a napoli figli non erano in casa la tragedia di san giovanni a teduccio raffaele pinto ex guardia giurata aveva perso il lavoro dopo aver accoltellato la moglie si è tolto la vita si era barricato per ore sparando contro la polizia illesi tre figli della coppia occupazioni abusive sgomberi a caivano chiuse le indagini della procura di napoli nord 419 residenti del parco verde dovranno lasciare casa entro un mese le associazioni del quartiere però avvertono bene il contrasto all'illegalità ma le famiglie vanno tutelate stellantis regione in campo il governo ora ci ascolti vincenzo de luca convoca il regione sindacati amministratori di pomigliano e chiede un tavolo di confronto con il ministro usso soddisfatti rappresentanti dei lavoratori che immocano certezze sul futuro approdi di amare in costiera sos dei sindaci al prefetto garantire collegamenti estivi nelle località della costiera malfitana per non penalizzare il turismo e allo stesso tempo scongiurare il caos sulla statale 163 braccio di ferro tra amministratori e capitaneria di porto di salerno euro chocolate al carnevale avellino punta sugli eventi la città si prepara al doppio appuntamento attese migliaia di presenze domani al via gli stand del gusto il comune varia il piano sosta in mobilità il 12 il 18 febbraio invece le due sfilate della zesa di bellizi transizione ecologica la sfida delle imprese l'importanza della conversione energetica per le aziende con l'obiettivo di favorire la nascita delle comunità rinnovabili questo il tema al centro del confronto che si è svolto alla camera di commercio di benevento buonasera e ben ritrovati con l'informazione serale del tg di otto channel tv in apertura l'omicidio suicidio a napoli dove pasquale pinto ex guardia giurata questa mattina ha ucciso la moglie con una coltellata alla gola e poi si è tolto la vita ingerendo del veleno ancora oscuri i motivi del gesto ma vediamo il servizio i colpi numerosi esplosi dalla finestra dal terzo piano di un palazzo di periferia dopo si è barricato in casa armato e a san giovanni a teduccio è calato il silenzio la polizia giunta in via raffaele testa ha messo in sicurezza l'aria allontanando i curiosi mentre erano in arrivo anche i reparti speciali in casa a quell'ora non c'era nessuno dei tre figli i due più piccoli erano a scuola mentre il grande 18 anni era in gita con la classe lui pasquale pinto 54 anni ex guardia giurata ha ucciso la moglie eva camicia 45 anni accoltellandola alla gola e dopo si è suicidato ingerendo del veleno la polizia è al lavoro per comprendere cosa abbia determinato il femminicidio suicidio sul posto insieme alla polizia anche le ambulanze e il pm raffaele falcone le operazioni per entrare in casa sono iniziate intorno alle 11 di questa mattina le immagini delle scene riprese dai balconi delle abitazioni circostanti mostrano gli agenti entrare da un ingresso secondario del cortile alle spalle rispetto a dove la finestra di pinto era aperta all'interno dell'appartamento insieme agli agenti anche i soccorsi medici e vigili del fuoco cosa ci sia dietro alla porta chiusa si scoprirà solo poco prima di mezzogiorno eva è a terra morta sul pavimento anche pinto di entrambi si può solo constatare la morte sarà uno psicologo a preparare i tre figli della coppia dal dolore che si è abbattuto su di loro mentre proseguono le indagini e gli accertamenti ed ancora cronaca due anziani deceduti insieme al cagnolino e una donna di 81 anni ricoverata al cardarelli di napoli è pesantissimo il bilancio dell'esplosione avvenuta in un'abitazione a torre del greco provvidenziale l'intervento di alcuni vicini il servizio due anziani morti marito e moglie insieme al cagnolino che viveva con loro e la sorella di lei ricoverata nel reparto grandi ustionati del cardarelli di napoli è il pesantissimo bilancio dell'esplosione avvenuta in un'abitazione di via volpicelli a torre del greco nella zona delle pinetine a provocare la deflagrazione una fuga di gas gpl dall'appartamento dell'anziana ricoverata in ospedale rodolfo jovine e anna pagano che abitavano a fianco sono stati travolti e uccisi dal crollo di un muro una tragedia che ha sconvolto la comunità torrese ma poteva andare anche peggio se non ci fosse stato il pronto intervento dei vicini che subito dopo l'esplosione sono riusciti a tirare fuori rosa pagano 81 anni la donna è stata poi affidata alle cure del 118 e trasferita al cardarelli se ancora viva molto probabilmente e anche grazie al tempestivo intervento dei vicini così il sindaco di torre del greco luigi mennella che ha sottolineato lo spirito di solidarietà dei residenti mi sembra giusto evidenziare questi gesti e ribadire che per quanto sia una realtà difficile torre del greco mostra sempre di essere una città estremamente solidale ha aggiunto la fascia tricolore sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'aria le forze dell'ordine e le ambulanze del 118 insieme ai tecnici e gli assistenti sociali del comune vesuviano per questioni di sicurezza due famiglie residenti al piano terra sono state sgomberate ed ora bagnoli se ci sono le risorse disponibili entro il 2030 si può completare tutto così il sindaco di napoli gaetano manfredi da palazzo chigi al termine della cabina di regia con il ministro per il pnr raffaele fito per il primo cittadino è stato un incontro molto positivo la cabina di regia ha preso apto degli stati di avanzamento delle attività ha spiegato c'è stata disponibilità da parte del ministro fito di poter proseguire nel finanziamento di bagnoli per fare in modo che le attività di bonifica non si fermino ha proseguito manfredi spiegando anche che la valutazione complessiva di quanto necessario è fare è stata quantificata in 1,2 miliardi di euro e ora a caivano sequestrati 254 appartamenti nel parco verde occupati abusivamente bruno mazza dell'associazione infanzia da vivere ad otto channel ha spiegato avanti tutta nella lotta alla camorra ma proteggere preservare le famiglie per don maurizio patriciello impensabile cacciate via tante famiglie con bambini il servizio e di questa mattina la notizia del sequestro di 254 appartamenti del parco verde di caivano occupati senza titolo nell'ambito di un'indagine che vede coinvolte 419 persone indagate sulla vicenda intervenuto con preoccupazione don maurizio patriciello parroco della chiesa di san paolo apostolo il sequestro di queste case occupate abusivamente nel parco verde è un atto dovuto della procura ma di fronte ad una manifesta situazione di illegalità per troppo tempo tollerata ma è possibile cacciare di casa 400 persone tra cui tanti bambini dove li mettiamo si interroga il parroco intanto dopo la notifica dei provvedimenti gli abusivi dovranno lasciare libere le abitazioni in 30 giorni altrimenti si procederà all'esecuzione dello sgombero in maniera Noi siamo 600 alloggi parliamo di 500 che è la maggior parte di famiglie che vive di legalità quindi di questi 108 alloggi il 40% di questi fa parte della criminalità e quell'altro 60 devono regolarizzarsi le famiglie stanno alcune sono state murate quindi credo che o 5 o 6 tra appartamenti e terracci sono stati murati dalle forze dell'ordine stamattina giustamente generalizzare un po' tutte quelle che sono le famiglie che negli ultimi 15 anni hanno provato anche a regolarizzarsi con l'ente però non hanno mai potuto avere un titolo e hanno continuato comunque a pagare il pigione hanno continuato a pagare comunque le utenze Il governo non ha un piano per l'automotive dobbiamo prepararci alla mobilitazione così il governatore De Luca che oggi ha incontrato i sindacati a Palazzo Santa Lucia a difesa degli stabilimenti Stellantis di Pomigliano e Pratola Serra Rossella Strianese Andremo a Roma per una riunione con il ministro Urso il 16 febbraio e parleremo anche della situazione di Stellantis in Campania che sta vivendo un momento non positivo con riferimento alle prospettive degli stabilimenti di Pomigliano e Pratola Serra Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca aprendo la riunione che si è tenuta con i rappresentanti sindacali che hanno espresso al governatore le loro preoccupazioni e indicato i temi da affrontare con il governo L'industria automobilistica campana è una grande realtà produttiva dell'Italia oltre che del sud della Campania Qui sono in gioco 4.600 posti di lavoro a Pomigliano 1.600 posti di lavoro a Pratola Serra Oggi abbiamo prodotti che vanno sul mercato dalla Panda al Tonale ai motori diesel che produciamo a Pratola Serra Ma se non imbocchiamo la strada della modernizzazione dell'innovazione noi rischiamo di ritrovarci fra due anni fuori mercato Allora cominciamo oggi la battaglia per pretendere dal governo di sapere qual è il piano industriale per quanto riguarda l'industria automobilistica Noi avevamo già in previsione un incontro con il ministro Urso giovedì 15 su un'altra vertenza industriale che riguarda l'industria dei cavi Ma ne approfitteremo per dire a Urso che Pomigliano e la realtà della Campania deve entrare a pieno titolo nel tavolo di trattativa che è insediato presso il ministero fra governo italiano e Stellantis Legambiente ha presentato il rapporto malaria con i dati relativi allo smog nelle città In Campania tra i capoluoghi situazioni critiche ad Avellino e Benevento male anche Napoli Ma vediamo il servizio di Giovanni Battista Lanzilli Inquinamento la Campania tra luce e ombre nel rapporto malaria redatto da Legambiente che ha analizzato i dati delle polveri sottili e del biossido di azoto nelle città Su 23 realtà urbane monitorate dalle centraline ARPAC 7 hanno sforato il limite PM10 mentre il numero sale a 20 per l'altra tipologia delle PM2.5 Quasi tutte hanno concentrazioni annuali superiori agli obiettivi ambientali fissati per il 2030 A Cerra, San Vitaliano e Volla sul poco edificante podio dell'inquinamento con Napoli che registra valori oltre i limiti per 36 giorni all'anno Tra i capoluoghi di provincia le situazioni più critiche ad Avellino e Benevento Anche quest'anno il report malaria di città ci riporta a uno stato delle città campane monitorate ancora davvero molto preoccupante sotto l'aspetto dell'inquinamento atmosferico Eppure sono già noti e sono noti da tempo gli ambiti nei quali sarebbe fondamentale intervenire per poter davvero mettere un freno a questa situazione che porta ogni anno tantissimi morti La priorità è accelerare la transizione ecologica anche nelle realtà urbane specialmente quando si parla di trasporti Ci sono delle soluzioni e delle possibilità per ridurre l'impatto di ciascuno di essi sull'inquinamento atmosferico Le risposte ci sono ma bisogna applicarle e metterle in pratica prima possibile Non si può più aspettare I sindaci della costiera amalfitana dalla prefettura di Salerno lanciano l'allarme in vista dell'estate Gli approdi vanno garantiti per non bloccare la divina come ogni anno sarà a botte Incontro in prefettura Salerno tra i sindaci della costiera amalfitana La regione campania, la capitaneria di porto, le compagnie di navigazione per trovare un'intesa che possa garantire in vista dell'estate la sicurezza degli approdi pubblici e privati nei porti della divina senza sacrificare il numero di collegamenti delle vie del mare e alleggerendo gli spostamenti in auto e bus Confermato il piano approdi per il programma già operativo dall'estate scorsa restano le preoccupazioni tra i sindaci per la possibile partenza della ZTL sulla statale 163 via terra La preoccupazione è che potrebbe esserci una ripercussione sul traffico via terra sul quale nel corso degli anni i sindaci prima con provvedimenti concertati con il prefetto e con l'ANAS con la proposta che è approdata in Parlamento della modifica del codice della strada per la ZTL territoriale hanno fatto una politica restrittiva ovviamente puntando in chiave alternativa sulle vie del mare è un fatto di vasi comunicanti dove noi dobbiamo insieme al prefetto cercare di porre il bilancino in maniera esatta per equilibrare le esigenze del territorio di sicurezza innanzitutto e anche ovviamente quelle delle imprese e dell'economia Fondamentale anche non affollare fuori misura i piccoli comuni della costiera come ricordano i sindaci Non si può pensare di stabilire degli accosti tenendo presente solo quelle che sono le condizioni di sicurezza a mare ma occorre tenere presente anche di cosa questo comporta sulla terraferma e di tutte le problematiche di sostenibilità e di vivibilità che i territori chiaramente subiscono Euro Chocolate e Carnevale la manifestazione di interesse pubblicata dal comune stalli che si aggiungono a quelli già disponibili sulle strisce blu del capoluogo e negli altri parcheggi privati ma anche un servizio di trasporto dedicato e ininterrotto curato dall'Aer con mezzi da 80 posti dall'area di accesso dello stadio Partegno e un analogo collegamento da Tripalda dal parking Santo Suosso questi punti cardine del piano sosta predisposto dall'amministrazione comunale in occasione della partenza della manifestazione in programma da domani fino al prossimo 14 febbraio è stata allestita prima di tutto una grande area di sosta all'altezza dello stadio Partegno che da sola vale circa 2000 posti auto e questo il punto di fermata più consigliato nei parcheggi di Via Zoccolari, Via Narumma, Via De Gasperi, Smile Arena e Piazzale degli Irpini tariffa unica giornaliera di 5 euro incluso il servizio navetta e si incrocerà con l'Euro Chocolate la tradizionale sfilata di Carnevale lungo il corso quest'anno due appuntamenti il 12 quello più sacrificato con le maschere che sfileranno ai lati degli stand di Euro Chocolate è domenica 18 proveremo a fare questa danza per arrivare poi anche a Piazza Libertà le polemiche sono solo dei politici locali che forse stanno già in clima di campagna elettorale per quanto riguarda l'UMPI o gli altri gruppi sono sempre stati corretti c'è sempre stato un dialogo proficuo l'importanza della transizione energetica per le imprese per favorire la nascita delle comunità delle energie rinnovabili questo al centro del seminario che si è svolto oggi alla Camera di Commercio di Benevento il servizio incentivare la conoscenza del sistema produttivo e delle istituzioni dei territori di Sanio e Irpinia sulle opportunità che possono arrivare dalla transizione energetica anche attraverso la creazione di comunità energetiche rinnovabili se ne è parlato oggi durante un seminario organizzato dall'ente camerale Irpinia Sanio in collaborazione con il Consorzio per l'innovazione tecnologica delle Camere di Commercio e al termine del progetto promuoveremo anche la costituzione di un tavolo territoriale insomma con la presenza dei vari stakeholders che coinvolgono un po' l'attivazione della CER della comunità energetica rinnovabile quindi a partire dalle imprese, dai cittadini ma anche dalle pubbliche amministrazioni lo scopo ovviamente è quello di favorire queste modalità di condivisione della produzione e dell'energia quale proprio elemento di competitività anche del nostro territorio Ufficialmente è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo in Italia Cercheremo di portare il nostro contributo come associazione tecnico-scientifica che segue i temi della transizione energetica, dell'efficienza e di farlo con le imprese che sono i soggetti che devono essere accompagnati in questo processo complesso, sfidante e quindi cercheremo di dare loro delle informazioni utili Il progetto Futura contro la povertà educativa femminile A Napoli racconto del primo anno di attività dell'iniziativa dedicata alle giovani donne in condizione di disagio e che vede tra gli ideatori anche Luca Cordero di Montesimolo Cristiano Vella Laboratori artistici e culturali e ancora musica e fotografia, teatro e informatica sono alcune attività rivolte alle donne tra i 13 e i 24 anni che vivono condizioni di disagio e che si svolgono anche nella sede del lanificio a Napoli nell'ambito del progetto nazionale Futura Garantire opportunità che consentano a persone che ne hanno poche di poter investire sulla loro emancipazione in maniera protagonista però e non soltanto perché qualcun altro gli propone soluzioni perché io credo che il lavoro sociale non sia sostituirsi alle persone Un'iniziativa che mira anche a fare da stimolo, da esempio di contrasto, alla povertà educativa Bisogna rimboccarsi le maniche, chi lo può fare? L'abbiamo fatto, è un'iniziativa che vuole stimolare anche logicamente la politica soprattutto nel contrastare la povertà educativa che è un tema drammatico, attuale e che va affrontato con iniziative non solo nei dibattiti E il valore del progetto è stato sottolineato anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi È un progetto molto significativo perché lavora su un aspetto fondamentale che è il rinserimento di situazioni di svantaggio per le donne partendo da due presupposti fondamentali l'educazione, quindi dare un bagaglio di competenze che rappresenta spesso un patrimonio indispensabile e poi anche l'inserimento lavorativo Ed era questa l'ultima notizia dell'edizione serale del TG di 8 Channel Ora le previsioni meteo e a seguire Focus Serie C una buona serata a tutti voi Grazie a tutti